La Germania batte la nazionale azzurra di calcio guidata da Antonio Conte. In una gara amichevole disputata all'Alzarena di Monaco di Baviera fra incendi misure di sicurezza, i ragazzi di Leuwe battono per 4-1 la nazionale azzurra. Il vantaggio arriva intorno al 24esimo minuto grazie ad un bellissimo gol di Toni Kroos. L'Italia ci prova a cercare subito il pari con Insigne ma la palla si perde molto a fondo. Al 45esimo arriva il raddoppio da parte di Goetz. Nella ripresa il terzo gol per marito di Traxler con l'aiuto dell'infortunio di Polucci. La quarta rete arriva con rigore di Osil. L'Italia salva la bandiera azzurra con la firma di El Sharawi. Per Conte serviranno ancora molti test prima di preparare la squadra che sosterrà il prossimo campionato europeo.